Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale, io sono Paola, secondo video della giornata secondo video della giornata e vi faccio vedere cosa ci è arrivato da Eurospin, da Eselunga ma rimanete fino alla fine perché vi do una bella chicca per chi non è iscritto a Eselunga, è di là Francesco innanzitutto se non sei iscritto iscriviti, commenta, condividi, scusate è stato Francesco e mettici tanti like allora parliamo di Eselunga, ho speso 43-44 euro, non ho speso tantissimo come vedete nell'immagine di copertina c'è l'acqua dell'Eselunga, l'Ulmeta per problemi di schiena non ve la faccio vedere purtroppo soffro di mal di schiena e la cosa bella dell'Ulmeta che il 50% costa 1 euro e 74 la bottiglia no scusatemi la confezione da 6 ma la cosa bella è che la bottiglia è il 50% di plastica riciclata c'è in offerta, non so quando vedrete questo, comunque questo è a prezzo fisso c'è in offerta la San Benedetto, mi sembra, Green o Sant'Anna Green, non mi ricordo Green bottiglia completamente riciclabile per avere le spedizioni gratuite sul sito dell'Eselunga dovete andare nel banner all'interno del sito c'è scritto spedizioni gratuite o scontate io per avere le spedizioni gratuite ho una spedizione in genere ad Eselunga costa 7,90 euro per avere le spedizioni gratuite dipende, le volte bisogna spendere anche 13 euro io ho trovato per mia fortuna la possibilità di comprare 3 prodotti adesso mi sembra Airweek, eccetera comprandone 4 prodotti vi davano in omaggio le spedizioni questi io ho comprato misti e costano 1,54 euro quindi 3,6 euro è vero che ho speso 6 euro però noi questi li usiamo questo non so di niente però questa è la lavanda, noi lo usiamo tantissimo e, uh, meno male, due la lavanda e due a, boh vabbè, comunque noi li usiamo, quindi mi è andata bene e ho avuto le spedizioni gratuite spendendo 6 euro poco più di 6 euro e mi è andata bene che questi costano 1,54 euro e non costano un botto poi ho preso queste che io adoro come marca 1,50 euro o 1,25 euro adesso non mi ricordo della fruitella ma le adoro perché sono senza gelatina animale come dicevo in altri video da che ho avuto Franci, credo, se non ricordo male sono diventata allergica, no allergica dal genetina animale che è presente nelle caramelle mi fa senso quindi non lo... se posso evito poi super super offerta Valfrutta sul sito della Valfrutta ogni tanto trovate anche il buono sconto da 50 centesimi 1,25 euro tutti alla pesca perché i miei bambini bevono questi solo alla pesca quindi è stata una super offerta perché ha 1,25 euro ma costano praticamente scusate che mi aggiusto perché sennò finisce anche magari finisco all'indietro vabbè quindi 1,25 euro e 1,25 euro costano quelli da 3 i frullati questo è 1,25 euro ed è un ottimo affare se ci fosse stato il buono sconto sarei andato anche in negozio a prenderli ma non c'è, ho controllato poi ho preso queste per i miei bimbi due ho preso questi dell'Aia che non è una delle mie marche preferite io preferisco Amadori è 100% italiano alto contenuto di proteine basso contenuto di grassi fonte di fosforo vabbè non impazzisco per Aia però almeno è carne italiana costa tantissimo 11,65 euro al chilo sinceramente dovevo prendere d'urgenza l'acqua e quindi ho cacciato dentro qualcosa per i miei bambini anche se poi è sempre se andate alla Lidl costa pochissimo quelle sottilissime di pollo e tacchino e sono sempre italiane è finta quella questa wow bello invece questo qua della linea S lunga allora questo qua è 100% poli italiano filiera controllata secondo cosa positiva vuoi un succo? si lo porti anche a tuo fratello? no sicuramente lo vuole anche lui te la metto io la cannuccia? spero non diventi stralungo questo video ah cannuccia di carta adesso si sta andando verso il trend delle cannucce di carta non è la prima volta che la vedo ha detto di no e allora tieni dai vai berlo di là e mi fa piacere anche alla fine sono le butti direttamente però io da risparmio casa ho trovato le cannucce scusate se ogni tanto giusto ma perché vedo che il telefono scivola verso giù vabbè pazienza e lo trovate compostabili cioè con plastica dovrebbe essere plastica riciclata quindi dovrebbe dovrebbe essere plastica riciclabile non si dice compostabili forse vabbè comunque plastica riciclata allora quindi dicevo 100% poli italiano filiera controllata alimentazione vegetale io infatti adoro il sellunga per questo motivo lo sconto del 20% 9,75 poi della linea gratis che è buonissimo io ve lo consiglio costa tantissimo 1,99 euro purtroppo ed è un formaggio vegetale ed è della linea ioveg della linea ioveg ma costa sì tanto però è praticamente al sapore del pecorino ed è buonissimo è veramente buonissimo io ve lo consiglio anche se mangiate carne ogni tanto variare non fa male vi assicuro ed è veramente buono gli ultimi tre prodotti scusate l'incasinamento del video sono della linea la green cuisine sono le salsicce vegetali che le ho già provate ma erano in offerta a 2 euro tutti a 2,15 2,20 euro ma non mi ricordavo senza carne non mi ricordavo il sapore ho detto li riproviamo 2 burger e 2 nuggets allora hanno tutto il buono delle verdure senza pollo sono vegetali e sono tutti senza carne all'interno ah sì sono tutti a base di piselli sostanzialmente e frumento e mi ricordo che mi erano piaciuti se quasi quasi visto che sono in offerta se mi capita domani che devo andare a prendere il buono dell'aldi che voi avete già visto il buono da 5 euro su una spesa di 30 se riesco a convincere se riesco a convincere Rocco quasi quasi ci fermiamo a prendere prenderne ancora vabbè vediamo il mio video finisce qui scusate il casino scusate le intrusioni ma lo sapete vi mando un bacione grandissimo se non sei scritto iscriviti commenta giallo commenta condividi con tutti perché non puoi sapere chi possono essere utili i nostri video e mettici tantissimi like ti ricordo se ti fa piacere di cercarmi su K Radio trovi nel mio video di K Radio tutte le istruzioni per cercarmi su K Radio ti ricordo di iscriverti anche al canale di Finestra Libera a quello di Anna da Manera e se ti fa piacere anche quello di Miriam ciao Miriam e ci vediamo al prossimo video se volete qualche video in particolare fatemi sapere se volete il mukbang di una di queste cose fatemelo sapere che sto cercando nel frattempo di caricarvi per la parte 2 2 sto cercando di caricarvi quello del mukbang che non riesco 20 minuti ero ottima non riesco spero di riuscire prossimamente e basta vi mando ah la chicca finale sbadatissima me allora sotto nell'info box quindi sotto il titolo a freccettina verso il basso cliccate sopra trovate un mio buono da 10 euro se non avete mai fatto una spesa da essere lunga e volete provarla su una spesa di almeno 40 euro vi consiglio di fare a 50 perché l'ordine minimo per essere lunga è 40 quindi fate 50 vi tolgono 10 euro del mio buono francesco basta vi tolgono 10 euro grazie al mio buono e non pagate le spedizioni la prima spedizione non la pagate questo è valido anche per chi forse ha già fatto spedizioni con esse lunga provate e fatemi sapere perché era valido anche per le persone che avevano già fatto la spedizione è in vita un amico sostanzialmente a fare la spesa online provateci e fatemi sapere se siete riusciti se non siete riusciti e volete provare a risparmiare da qualche altra parte non c'è problema però se vi fa piacere condividete il mio codice amico che trovate qui sotto non si sa mai magari qualcuno può essere interessato quindi commenta iscriviti condividi e metteci tantissimi like ciao alla prossima